Voi penserete, scusate ma la confusione è tanta, non capisco neanche cosa sto dicendo, ringrazio i compagni per la loro grande, 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 ma ancora di più grande correttezza, scusate ma quando ci vuole ci vuole, e il rispetto che io tento di dare a loro ma loro non danno a me e penso che sia perdente questa cosa. Il rispetto va prima di tutti, vabbè non importa, comunque io continuo perché non accetto queste prevaricazioni né da loro né da altri, bene, penso che sia questo anche il simbolo della manifestazione oggi, basta con le prevaricazioni, da qualunque parte si vengano.